Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Un breve video sull'arrivo della ricarica straordinaria di reddito e pensioni di cittadinanza. Secondo le ultimissime notizie da ieri sera sono partite le lavorazioni dei pagamenti e oggi arriveranno le ricariche. Vediamo insieme tutti i dettagli in questo breve video. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Sono in arrivo i pagamenti delle ricariche che erano state sospese a marzo per i percettori di reddito e pensioni di cittadinanza che non avevano ovviamente ricevuto la ricarica. Da ieri sera infatti sono arrivate le lavorazioni come dicevamo in apertura di video. Oggi dovrebbero arrivare dunque le ricariche ma secondo le ultimissime notizie purtroppo molti percettori hanno subito dei tagli. Alcuni percettori si sono visti addirittura azzerare la ricarica mentre altri hanno ricevuto cifre intorno ai 30 euro. Incredibile ma c'era da aspettarselo dato che l'Inps aveva annunciato le due decurtazioni del mese di febbraio e di marzo in precedenza. Dunque fateci sapere qui sotto nei commenti del video se anche voi avete ricevuto dei tagli o meno e se sì di quanto. Bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.